Il tetto sfondato della cascina Bosco è da Mianto, come ha constatato un agente della Polizia Municipale di Cremona. La segnalazione è partita da un cittadino della frazione Cavatigozzi, che sporgendosi dal bus, proveniente da Cremona in via Milano, ha visto e si è reso conto del pericolo e ha informato il comitato di quartiere. La segnalazione, corredata da fotografie, è poi stata rivolta al Comune e alla provincia, oltre che all'Osservatorio Nazionale Mianto, ma durante il sopralluogo del Comune il vigile si è accorto che la proprietà è della Regione Lombardia, poi informata da un cittadino. La cascina Bosco è gestita da anni dall'ente provincia, oltre che abitata da una signora, ma la proprietà è del Pirellone, che non ha mai provveduto alla bonifica. L'Amianto anche stavolta rimane dove si trova, acquattato nella zona di Bosco, fra via Acquaviva e via Milano, vicino al porto del canale navigabile. La cascina è un segno della Cava Tigozzi agricola che fu un tempo e si ritrova ormai circondata da industrie anche a rischio di incidente rilevante, come la Liquigas sul lato opposto di via Milano, dove si trova anche una fermata del bus con pensilina. Non lontano sorge il quartiere Dossetto, molto popolato. La zona industriale è particolarmente frequentata anche per lavoro. A Cava Tigozzi però l'Amianto resta anche in via Casanova, nello stabilimento ex auricchio, anch'esso inserito nel censimento dell'ASL e segnalato già anni fa dai cittadini. La pericolosa sostanza si trova su un tetto fra le case del paese di 3.000 abitanti, eppure nulla cambia e nessuno bonifica. È la frazione in cui la pista ciclabile di via Milano è attesa da 40 anni inutilmente. I lavori affidati a un privato non sono ancora avviati, mentre un'altra ciclabile in via Riglio non è mai stata mantenuta e appare cancellata. Il caso della cascina Bosco è arrivato ormai alla consigliera regionale Yolanda Nanni dei Cinque Stelle, che ha constatato il notevole degrado dell'immobile e ha verificato che la bonifica non è stata inserita nemmeno fra gli interventi prioritari del piano regionale Amianto. È il piano che doveva essere completato entro il gennaio del 2016 e dire che l'Amianto doveva sparire dalla Lombardia, almeno dai luoghi più pericolosi per i cittadini.